Consueto evento di chiusura della campagna associativa 2016 dell'Automobile Club Bari-Bat. Si è tenuto a Bari come ogni anno alla presenza dei delegati territoriali e dei vertici di Automobile Club Bari-Bat. A trarre le conclusioni su una stagione trionfale l'avvocato Francesco Ranieri, presidente di ACI Bari-Bat e il direttore Maria Grazia De Renzo. Oggi è una giornata importante per noi come tutti gli anni perché non solo facciamo il punto di tutta la situazione del lavoro svolto nell'anno passato, si premiano i migliori delegati in base alla produzione, siamo ancora più soddisfatti dell'anno scorso perché abbiamo aumentato di oltre 1.000 tessere la produzione, e quindi siamo arrivati a 21.000 tessere. Per noi una grandissima soddisfazione essendo ormai l'ACI più importante da Roma in giù, la più produttiva e un'ACI utile che porta risultati brillanti nella casa dell'ACI. Con la Sara stiamo collaborando molto attivamente e questo ci rende molto più forti. Dobbiamo ovviamente pensare sempre al futuro, a qualcosa che dia sempre più sostegno per gli automobilisti, per la cittadinanza e per tutto il nostro territorio che come sapete tutti Bari e anche Batte. Speriamo bene nell'anno 2017 con sempre maggiore impegno ed entusiasmo. Abbiamo superato noi stessi rispetto al 2015 in cui nella classifica nazionale eravamo noni, quest'anno abbiamo chiuso con un ottavo posto che era guardevole. 2017 cosa riserva ai soci e a chi vuole avvicinarsi al mondo ACI? Allora il 2017 innanzitutto avrà un ulteriore impegno dell'ACI Bari per la sicurezza stradale. 19, 20 e 21 ci sarà una grandissima fiera dedicata alla sicurezza stradale. Marzo? 21 maggio, nel pieno del Maggio Barise, proprio perché vogliamo vivere gli eventi più grossi di Bari ed essere lì presenti. E poi la nostra chicca, quest'anno lo Sdralom è il campionato nazionale italiano e quindi faremo una serie di eventi sia per presentarlo con la manifestazione del cart in piazza con carte elettrici utilizzati da bambini sia le verifiche le faremo nella piazza centrale di Monopoli con musica come il nostro spirito, serio ma anche allegro. Anche quest'anno ci sono stati dei soci fortunati, il signor Sciannimanico per esempio ha ottenuto un premio prestigioso. Ho trovato questa comunicazione da parte dell'ACI che ero il fortunato vincitore di un computer della Apple di ultima generazione. Da quanti anni le hai soci o ACI? Una quindicina, credo 16 o 17, credo dal 2001 o dal 2002, non mi ricordo con esattezza. Nel 2000 sono andato in pensione quindi ho cominciato anche a fare un po' di viaggi ho pensato che l'ACI potesse tutelarmi per tutte le necessità connesse al mio peregrinare, al mio girare e quindi sono contento di averlo fatto. Al momento opportuno, quando ho avuto bisogno, l'ACI è stata sempre presente e vicina a me. Infine un riconoscimento anche ad un giovane automobilista, Enrico Cariola che dopo aver frequentato una scuola guida affiliata al circuito Ready to Go si è giudicato un premio molto interessante delle casse Bose. Ho fatto questa esperienza tramite l'autoscuola guida moderna dove sono stato scelto come vincitore tramite l'ACI e grazie all'ACI ora ho imparato anche a guidare. Grazie. Grazie.